Il nostro MLC PowerPoint a DIN continua a crescere ed ha superato le 60 funzioni di produttività per noi che lavoriamo su PowerPoint. In generale sono funzionalità che ti aiutano ad andare più veloce e a fare le cose più coerenti, migliori. Però ci siamo resi conto che tante funzionalità possono richiedere del tempo per essere imparate e padroneggiarne l'uso. Per questo abbiamo deciso di introdurre una versione Essential e una versione Pro. Vieni che ti faccio vedere. Se tu vai nei settings è possibile dai settings scegliere una versione Essential. La versione Essential non è altro che una compressione, una versione ridotta del DIN che ti permette di utilizzare le funzionalità che i nostri utenti utilizzano più spesso, che amano di più. Se invece tu ti senti sicuro, pensi che queste funzionalità ormai le padroneggi e hai bisogno di andare a livello avanzato, ricordati che puoi sempre schiacciare sui settings, mettere la versione Pro e utilizzare tutti i pulsanti della barra. Spero che questo video ti sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!